Incredibilmente donna, incredibilmente donna, per cui ho detto già tutto, però vale la pena di allargare per scoprire che ho detto la verità, Amanda Lear, che sarà nostra alleata. Amanda Lear, incredibilmente donna, disco tutto italiano. Made in Italy, tutto italiano. Hai rilanciato il nostro mercato, perché qui i nostri vanno a Los Angeles, a New York. È vero, è vero. C'è che nel Lid Parà tedesco c'è un sacco di canzoni italiani, ora veramente il suono italiano va molto forte. E qui torneranno questa gente da Los Angeles, da Londra, verranno nei nostri studi. Ma è un snobismo, sa, questo anglosassonismo, un snobismo, anzi io voglio farlo incontrare, voglio fare un disco proprio in Italia per dimostrare... Non è un snobismo anche il tuo, no. Un snobismo italiano, meglio per noi, no? Questo lo tengo io, incredibilmente donna. Cos'è il mio disco? Te lo regalo. È incredibilmente mio. C'è un pallone, ho una trousse di tartaruga. Indovina cosa scegli. La trousse. Senz'altro la trousse, è bella poi, sono tutti questi trucchi dentro. Allora il pallone è via, niente, non vuole il pallone. Non vuole il pallone, lo dà un altro. E io che volevo parlare di sport con te, per non fare i soliti discorsi. Di sport? Sì. Ma non sono sportiva, guarda, mio sport, niente, anzi sono pigra. Ma hai fatto, ma per tenerti in forma così, ma hai fatto... No, 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 sono magra, guarda, no, a me mi piace stare a letto, magari con uno sportivo, però io lo sporto. Stiamo già andando, andiamo velocissimi verso i soliti discorsi di Amanda. Sì, di questo vestitino qui, carino, lo sei disegnato tu? No, l'ho disegnato la vera. Con l'aiuto di Salvetti? Qualcosa? No, infatti è vero, l'ho disegnato io. Sai che io disegno, faccio la pittura e disegno. Sei pittrice o pittura? Fai la pittura. Non so come si dice... Vuoi parlare spagnolo ogni tanto, pittura? Sì, sono pittrice di talento. Ecco. E quando non faccio la canzone... Di talento che non è un paese... Non sei di talento in provincia di Toledo? No, 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 di talento in Francia. Di Francia. E dipingio molto anche su una mostra. A Dorlino sono in formato. A Berlino due mesi. E qui moltato l'angolo? Se volete investire, pure te se vuoi mettere i tuoi soldini a comprare un quadro è il momento giusto. Un quadro d'autore? Poi costerà. D'autore o d'autrice? D'autrice. D'autrice. Adesso invece lei, incredibilmente donna, risorge qui su questo palco. In italiano. Tutta in italiano, è tutta in italiano. Amanda Lear tutta in italiano. Io amo un uomo nella mia vita. E poi calpesta ogni mio sentimento. E dire che io vorrei volare e avere i cieli dai mille voli liberi. Essere donna, davvero una donna. Con il suo posto preciso nel mondo. E nonostante la mente mia si riveli, che il corpo a quello non gli ocorrisponde. E per cui quando ho tornato a dirvi sul seno, non do più in me questo amaro veleno e mi sento una donna. Donna, un'idea che nasce, un'idea che cresce, una donna. Donna, sono il mare profondo e tu cadi giù in fondo, che in fondo, che in fondo. Una donna, donna. Un respiro che nasce, una voglia che cresce, una donna. Donna, sono il mare profondo e tu cadi giù in fondo, che in fondo, che in fondo. A superclassificazione, Amanda Lee. A volte vola la mia fantasia, e lui diventa per me poesia. Leggo e rilego più volte ogni verso, ed ogni volta io lo scopro diverso. Poi alla fine del mio dolce volo, la realtà resta sempre una sola. Io che con gli altri continuo a imparare, che la mia vita è solo sbagliare. Per un redore sto a guardarmi allo specchio, per definirmi poi l'inutile straccio. Ma quando lui torna a dormirmi sul seno, non do più in me questo amaro veleno e mi sento una donna. Donna, un'idea che nasce, un'idea che cresce, una donna. Donna, sono il mare profondo e tu cadi giù in fondo, che in fondo, che in fondo. Una donna, donna. Un respiro che nasce, una voglia che cresce, una donna. Facciamo.